Posizionano gli elettrodomestici al sole con la speranza che il calore possa riportarli in funzione e invece alcuni sciacalli ne approfittano e rubano lavastoviglie e lavatrici. E' accaduto la notte scorsa in Via Cecchi, in zona Sassonia, dove i residenti, già disperati per i danni provocati dal maltempo, al loro risveglio si sono accorti del furto. Questa notte sono venuti a portare via la lavastoviglie, la lavatrice, due lavatrici. Rubar via nel senso che ve l'hanno rubata? Sì, sì, l'hanno rubata, le abbiamo mucchiate qui, una poi era abbastanza buona, la volevamo fare rivedere, ma purtroppo è stato così. Poi, ancora incredulo, il signor Daniele ci ha raccontato quanto accaduto nella sua abitazione a causa delle forti piogge. Da dove veniva l'acqua? Dai pozzetti di scarico, dai tubi di scarico dell'acqua bianca e l'acqua scura. Veniva su, la fogna era piena e da lì è andata a finire sullo scivolo. Sullo scivolo mi ha lagato tutto, nel giro di due o tre ore avevamo l'acqua che arrivava fino qui, fino al primo gradino. Poi, quindi anche sotto vi ha rovinato tutti i mobili, tutto quello che c'era? Tutto quello che avevamo, la cucina, poi provvisoriamente ci dormiamo, io e mia moglie, perché abbiamo le figlie che si sono appoggiate qui in attesa di andare, di trasferirsi. Quindi abbiamo portato via il letto e poi qualcos'altro. Io sono rimasto così in tuta, i pantaloni, tutta la biancheria, tutto giù di sotto, abbiamo perso tutto.